La stessa internazionale che sta tornando a fuoco. E chi c'è stato? Io ho visto che c'è una nuova produzione di casa. I parruetti. I remember a step on the black stone. E chi ho? L'ho preso. Questo mi serve? L'affare verde. L'affare verde mi serve? L'affare verde mi serve? L'affare di traghetto Mario. Come si fa a spegnere qua? Vediamo la bottiglietta la. Sì, questo è il punto. questo è il nostro porto di pick-up, qui